Per il Tiguglio si preannuncia un altro fine settimana con il pienone di turisti. Complice del bel tempo e le alte temperature registrate in questi giorni, sono attese migliaia di presenze ad affollare le spiagge delle riviere. E sono molte le persone che hanno già potuto approfittare dei nuovi e più ampi spazi venutisi a creare con l'ampliamento della spiaggia del lungomare di Chiaveri, dove ad inizio giugno si sono conclusi i lavori del primo lotto delle nuove difese a mare. Un progetto portato avanti dal comune di Chiaveri e finanziato dalla regione con circa 14,5 milioni di euro stanziati dal Dipartimento di Protezione Civile, che ha visto la realizzazione di due pennelli perpendicolari alla linea di costa al posto della diga parallela. Questi sono lavori che hanno avuto particolare successo, rientrano in quegli investimenti seguiti alla grande mareggiata del 2018, che stanno dando davvero alla costa della Liguria un volto nuovo. In particolare questo è uno degli investimenti a maggiori contenuti, stiamo parlando di più di 14 milioni di euro investiti per il primo lotto dei lavori. Questo quanto ovviamente può incidere poi in una vocazione marittima e turistica di Chiaveri, che si unisce a quella del Tiguglio e lo completa. Confermato anche l'impegno della regione per il reperimento dei fondi necessari per il proseguimento dell'opera e il completamento anche del secondo lotto. Io penso che o i fondi FSC o anche i residui del PNRR possano essere aggredibili per questi oltre 15 milioni, direi che sono mancanti rispetto a questo primo finanziamento storico. Ripeto, per qualche cosa che cambierà, io penso, la sicurezza di questo litorale. Spero di non dover mai ovviamente commentare altre mareggiate come quella del 2018, ma con una resilienza importantissima e con un volto di questo litorale che evidentemente troverà in questo intervento un intervento di portata storica. Il sopralluogo della delegazione del Presidente della regione a Chiaveri è proseguito poi alla spiaggia per tutti, l'area attrezzata, gestita da Anfas e Villaggio del Ragazzo per permettere anche alle persone disabili di vivere il mare. Qui l'incontro con Emanuele, il ragazzo non vedente, al centro di un brutto episodio di discriminazione dei giorni scorsi. La regione ha confermato l'impegno per l'aggiornamento del censimento delle spiagge libere attrezzate e degli stabilimenti balneari presenti sul territorio, così da realizzare e promuovere una guida mare accessibile 2023.